Pordenone fuori, Ascoli in casa martedì nel turno infrasettimanale. Vicenza in trasferta tra otto giorni. È il momento chiave della stagione. È il momento di imprimere la svolta. Si comincia da Lignano-Sabbiadoro, la casa del Pordenone. Domani ore 14. Friulani in evidente difficoltà. Appena cinque punti nel girone di ritorno. Uno in meno del Pescara. Attacco anemico. Peggio di quello bianchezzurro. Un solo gol nelle ultime cinque sfide. L'asso di tempo nel quale il Pordenone ha racimolato la miseria di un pareggio nel match interno con l'Ascoli. Grassadonia deve rinunciare al contributo di Balzano, Bocchetti, Tabanelli e dello squalificato Mirko Drudi. Sembra scottata la conferma della difesa a tre, cinque, che dir si voglia. Il probabile undici. Fiorillo tre pali. Gut, Sorensen rientro dopo quattro gare. E Scogna Miglio nel cuore della difesa. Bellanova e Masciangelo sulle fasce. A metà campo, De Sena, Busellato e uno tra Maestro e Macin. In attacco, certo, l'impiego di Odgaard con Galano in vantaggio su Setter. Giannetti comincia dalla panchina. Se così fosse, stesso tandem di Frosinone nella prima gara di Gianluca Grassadonia. Pordenone privo di Bassoli, Pasa, Butic e Finotto. Forse abili, ma solo per la panchina. Calò, Musciolic e Falasco, assenti da tempo. Presumibile una sola novità rispetto al match di Monza. Berra al posto di Bogliacco. La possibile formazione. Per i San tre pali. Berra, Camporese, Barison e il polacco Schanosk in difesa. In mediana, Magnino, Misuraca, in realtà adattato da settimane nel ruolo di play. Escavone tra le linee Zammarini alle spalle di Morra e Ciuria. Dirige Sacchi di Macerata, stesso arbitro di Pordenone Pescara 0-2 della scorsa stagione.